Ciao a tutti, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Digitale. Anche in questa puntata parleremo di criptovalute. Come vediamo dal sito CoinMarketCap, è stata una settimana generalmente positiva. Ci sono diverse criptovalute che segnano un incremento a due cifre e appunto questa cosa significa anche che gli investitori stanno un po' differenziando i propri investimenti. In particolare parlerò di alcune criptovalute che hanno qualcosa di nuovo da dire, che sono appunto Litecoin, PIVX e ARK. Allora, iniziamo. PIVX. PIVX praticamente è una nuova criptovaluta che è stata rinominata da una valuta precedente e l'aspetto più interessante è che è un fork della criptovaluta Dash però appunto apporta alcune modifiche quindi non utilizza più l'algoritmo Proof of Work ma è di tipo Proof of Stake. Per quanto riguarda l'utilizzo normale, questo significa che come Dash esistono sempre questi masternode che si occupano appunto dell'anonimizzazione della criptovaluta ma appunto l'aspetto interessante è che anche i nodi che non hanno 10.000 PIV hanno in qualche modo un incentivo a tenere il proprio nodo acceso e quindi lì entra la parte Proof of Stake quindi basta scaricare il client di PIVX e a seconda dei PIV che vengono tenuti sul proprio wallet si può ottenere un certo tipo di reward nel tempo e appunto il sito è fatto molto bene ci sono diverse informazioni però appunto fate sempre occhio a questo tipo di criptovalute Altra notizia su Kraken che è uno degli exchange più utilizzati in Europa è stata introdotta una nuova criptovaluta che è appunto Dash prima di allora era possibile acquistarla solo su alcuni exchange diciamo minori e quindi questa cosa significa che non solo si può acquistare Dash partendo da Bitcoin ma hanno aggiunto diversi Payer quindi Dash dollaro, Dash Bitcoin e Dash Euro quindi per chi volesse acquistare questa criptovaluta non è più necessario passare dal Bitcoin ma si può acquistare direttamente in Euro andiamo avanti l'altra notizia che mi ha colpito è quella di Nextcloud che è una sorta di Dropbox che possiamo installare a casa nostra e questo tipo di progetto open source si va a integrare con un altro progetto legato al mondo delle criptovalute che è questo SIA che è appunto una criptovaluta minore e l'aspetto interessante è che appunto in casa nostra possiamo avere il nostro piccolo Dropbox ma allo stesso tempo quando noi vogliamo distribuire i nostri file distribuire nel senso di avere una sorta di backup su un computer che non si trova a casa nostra possiamo utilizzare la rete SIA e quindi in questo modo possiamo diciamo tenere una parte del nostro hard disk dedicata ai nostri file e un'altra parte la possiamo dedicare alla rete SIA e in questo caso succede che sostanzialmente noi vendiamo agli altri una parte del nostro hard disk e allo stesso tempo possiamo comprare una parte degli hard disk e degli altri e avere una sorta di mutuo salvataggio dei file dal punto di vista della sicurezza la rete SIA non detiene i file in chiaro quindi solo noi che deteniamo le chiavi private possiamo riaccedere ai nostri file che verranno appunto mischiati sparpagliati nei computer degli altri è sicuramente un progetto da tenere d'occhio altra notizia Segwit la modifica che appunto fa fatica ad approdare su Bitcoin invece ha ottenuto il 75% sulla rete Litecoin quindi è probabile che nel giro di poco tempo questa modifica che non si riesce a vedere su Bitcoin perché appunto non ha il consenso la vedremo invece su Litecoin quindi altro sito da tenere d'occhio e appunto per quanto riguarda la rete Bitcoin praticamente la situazione più o meno è sempre oscillante abbiamo la modifica Bitcoin Unlimited al 38% circa e la modifica Segwit quella degli sviluppatori di Bitcoin Core al 35% quindi nulla di sostanzialmente invariato e appunto l'altra criptovaluta che non solo è appunto è questo ARK e questo ARK sostanzialmente è un fork di Lisk che è un'altra criptovaluta e appunto anche qui è un progetto nuovo da tenere d'occhio perché appunto si sta muovendo con decisione nell'ultimo tempo spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un mi piace e ci vediamo in un altro video ciao ciao Grazie a tutti.